Cioè mi stai facendo perdere l'arco? Davvero mi stai facendo perdere l'arco e tutto quanto? Guarda sto per buttarti le cuffie in terra Ma che cosa c'entrano le cuffie? Yes torno e ti ammazzo Yes torno e ti ammazzo E io rimango chiuso dentro No io torno e ti ammazzo No dai ti prego No 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 aprimi No Aprimi Mi ha fatto arrabbiare aprimi e muoviti Non ti apro perché dovrei No io ti devo ammazzare E ragazzi come va? Io sono Feriniki E io sono Steph E questo è GioGio che è Maroblox E andiamo subito a salutare i nostri 6 eroi del giorno Che per oggi sono The Troll Gamer Mirko, Veronica, Crazy Smile, Franco e Davide Ciao ragazzi Ciao a tutti Quest'oggi siamo su un Tycoon davvero particolare Si chiama Lucky Vlogs Tycoon O qualcosa del genere E come consiste? Praticamente in bassa sinistra abbiamo il Lucky Blocks Ci dice che il Lucky Blocks normale ci viene dato ogni 5 slash 10 minuti Quindi è casuale E il Super ogni 30 minuti Dentro questi Lucky Block potremmo trovare tantissimi oggetti di Roblox E' fantastica questa cosa E' bellissimo Ovviamente molto simile al Lucky Block di Minecraft Esatto Non è troppo diverso L'ho dato per scontato però in effetti magari qualcuno non le conosce Esatto Praticamente sono delle scatole dove si possono Possono trovare tantissimi oggetti particolarissimi e divertentissimi E lo trovi casuale Cioè tu non puoi sapere cosa troverei dentro E' un mistero Diciamo che puoi trovare una cosa totalmente epica O una cosa che fa totalmente schifo Quindi tu troverai lo schifo e io le cose epiche No io signor Maialino dalla mia parte Io e lui troveremo solo cose bellissime Chi l'ho deciso Comunque ho notato che abbiamo anche un mini Tycoon Sì Che mi sembra carino Non so adesso in cosa consisterà Perché le scatole mi sembrano comunque a parte dal Tycoon che è successo Esatto Cosa hanno pensato Guarda almeno è un Tycoon particolare Esatto E' molto originale Una produzione di parrucche Questo è poco ma sicuro Quindi c'è sempre una prima volta E' divertente poi no? È entrato Crokey Ciao Crokey Guarda ci sto facendo visita Fallo vedere lì davanti E lì davanti Ah a proposito abbiamo anche una spada Guarda che bella No non mi uccidere No infatti non lo userò Non mi uccidere Allora Non mi uccidere Hai prodotto esattamente 50 Quindi possiamo mettere il primo parrucchino automatico No i parrucchini rossi non ci credo Questo è rosso Ma questi sono fantastici e dai sono bellissimi Però questi bisogna continuare a farli Vedi guarda Un po' rossi un po' marroni Per accontentare un po' tutti i gusti Un po' per tutti i gusti mi sembra giusto Certo non è detto che vuoi per forza i capelli rossi La vera domanda So per dire rosa come i miei invece poi ho fatto rossi No non ci sono La vera domanda è Chi riceverà il primo Lucky Block tramite Io e signor Maialino Io e signor Maialino Su 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 per forza Abbiamo 590 Possiamo mettere il primo Upgrader Per aumentare di tantissimo la produzione Ok E poi c'è pure il secondo Upgrader Che però costa 750 e non ce li ho ancora Ok va bene stiamo calmi Aspettiamo Continua a produrre i parrucchini Comunque è entrato anche Epic Bombo Che è un altro consolino Aspetta che li saluto Scrivo un ciao Un ciao generale Perché ci stanno scrivendo da Da due ore Purtroppo non siamo riusciti a rispondere Mentre stiamo registrando Quindi è un po' difficile E colpa è signor Maialino È troppo impegnativo stare dietro a signor Maialino No io in realtà sono molto focalizzata Sulle Lucky Block Perché non vedo l'ora di avere la prima Quindi sto aspettando impaziente Sto guardando solo questa parte dello schermo Avvisa a tutto il server quando ne da una Viene proposizzato tutto il server Di chi la riceve Perché io pensavo mi spawnasse qui a sinistra Quindi ero lì attentissimo Invece mi arriva un avviso Ho un'altra informazione da darti Se muori la perdi Quindi qualunque oggetto ti dà Se vieni ucciso da un altro player Perdi gli oggetti No Sì No ma è cattivissimo Lo so È cattivissimo Lo so Comunque ho notato Quindi se trovi qualcosa Scusa un attimo Più figo di me ti posso uccidere No Così la perdi Se mi uccidi Buona sapere Ti stacco tutto Cosa Ti spacco il microfono E ti stacco il computer Non puoi Non puoi Altrimenti questo video non riuscirete Dicevo Dicevo Ok Che gli upgraders Guardi zoomandoli Sono altri parrucchini Vedi Mmm Bello Non so perché Cosa hanno pensato Davvero io voglio capire Cosa avete pensato A mettere delle parrucche Però è geniale Almeno non abbiamo mai trovato Te l'ho detto Un Tycoon con le parrucche È molto originale Abbiamo i soldi per comprare Il nuovo upgrader Guarda Questi qua sono per te Guarda che bellini Belli Questi rosa mi piacciono Non è proprio un rosa È un colore un po' particolare Sì No 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 Perché Perché Lo sapevo che la davano prima a me Signor maialino Concentriamoci Concentriamoci Cerchiamo di fare Il meglio di noi stessi Scusa E se troverai uno schifo Ci stiamo concentrando Per portarti siga Posso andare Vai concentratissimi Signor maialino Uno Che hai trovato? No Ma Biff guardami Guarda mi sono volata fuori dalla mappa Oh mio dio Oh mio dio È epico Bellissimo Ma scherzi Cioè mi hai fatto volare fuori dalla mappa È epico Io non c'entro nulla Io non c'entro nulla Provare l'arma Ma hai visto che bellino il suo tycoon Ha già fatto un sacco di cose Tutto il percorso È troppo carino Ok Mi ha dato il permesso Ma dai Non l'ho ancora capito Vado No no Mi ha dato il permesso Uuuu Bum Ma è rimasto lì Io sono volata fuori Non si sa per quale motivo Perché ho mirato meglio Credo Poi anche qua Guarda Tycoon owner pieno di parrucchini Uuuu Yeah Yeah Sei pronto Vai Vai Cosa devo fare? Sinistro Sinistro Sono emozionatissima Oh mio dio Stai ferma? Ma non ti posso uccidere Eh lo so Spara qualcosa Sparo qua Ok ok Assomiglia all'arma Che abbiamo usato Su Moon Tycoon No Assomiglia un pochettino Anche alle armi Che c'erano In quello dei supereroi Non mi sembra Non so adesso Quanto danno faccio Perché ho paura Che magari Ti one shot E per il martello Evita 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 Quindi Non lo so Però non mi sembra Tutta questa bellezza Insomma 1 a 0 per Steph Con le cose fortunate Guarda che bel parrucchino adesso Wow Pure quello rainbow Tutto arcobaleno Non li vorreste avere i capelli così? Sì Adesso facciamo un po' di shopping Allora Ci compriamo tutto il sentierino Oh vedi carino Come ce l'aveva Epic Molto molto carino Poi ci compriamo le mura Ok Ah no Ho comprato la cosa della porta È sbagliato Le mura Vabbè aprila scusa dai Apriamo la porta Ah io non la posso fare È vero Ok E poi qua si può comprare La seconda parte di produzione Però ho finito tutti i soldini Perché ho shoppato tantissimo Ok ok Allora Anzi no Anzi no Guarda siamo È molto veloce È molto veloce secondo me Perché si basa poi molto sulle lucky block Anche secondo me Diciamo che il tycoon Forse è una cosa di contorno Giusto per il tempo che devi aspettare Per fare qualcosa Mentre aspetti Mentre aspetti le scazzole Esatto Mi sembra giusto Sarebbe figo se quando riesci a finire il tycoon Arrivi a una cosa che ti fa produrre Un lucky block Tipo ogni centomila soldi Sarebbe bellino Magari c'è Magari c'è Non lo so Dovremmo finirlo Sì è quello che stavo facendo Grazie mille È molto apprezzato Velocizziamo un po' la produzione Allora io metto un altro dropper Lo metto dall'altra parte Ok vai Guarda Siamo passati dai parrucchini ai capelli Io non ci credo Lo so che non te l'aspettavi Questo cambiamento Apprezzo l'originalità Ma non riesco a farmela di ridere Ti giuro Ok Poi adesso secondo me Dall'altra parte Saranno tutti i capelli Parrucchino poi il cappello Capito Per tutti Vedi tu hai il parrucchino Io il cappello Poi ci credono Non ci provare Non si staccano Guardate Non è un parrucchino Allora il nostro consolino epic Ha aperto la sua prima lucky Ed è un Ma che è successo? Cos'è questo urlo? Mi sono spaventata Allora È la cosa più epica del mondo Lo voglio Appoggia il tavolo Lo lancia E inizia a urlare Vado 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 Che è? Una spada Una spada colorata La vedi? Che con l'attacco inizia a correre Mi hai ucciso Mi hai ucciso Cos'hai combinato? Gli hai fatto perdere il tavolo No Gli hai fatto perdere il tavolo Non ci credo Non ci credo che gli hai fatto perdere il tavolo Che era epico Guarda Guarda questa spada Se io clicco sinistro Inizia a correre Non so perché E quindi Sono una persona terribile Era fantastico quel tavolo No no Non l'ho fatta apposta Pronto? Pronto? Un arco Uh Uh bello però Spara qualcuno Wow È fortissimo È velocissimo Bello questo Riprovalo Aspetta Tipo su quel muro Ok Hai visto come veloce è la freccia? Sembra figo 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 Non male Diciamo non male Meglio della pistoletta Che ho trovato prima Perché sinceramente Lo preferisco Esatto Allora l'ultimo dropper costa 100.000 Quindi visto che non ce li ho Proviamo questo Uh Io ci sono passata per sbaglio Cioè non volevo vestirmi così Siamo fighissimi Guarda Hai detto che abbiamo questo cappello qua Questo cappello qua Ci si è messo in testa Cioè stiamo riciclando le stesse cose che produciamo Capisci? Abbiamo anche una bellissima maglietta della Nike E i pantaloni E le scarpe dell'Adidas Non vorrei Ah un po' di tutto Ho capito Anche lo zainetto è Nike Ok Bellissimo Allora Abbiamo I soldi per l'ultimo dropper Sì secondo me sarà il cappello più fashion di sempre Proprio della storia Ai smettila Mi potevi uccidere Guardati la faccia Mi potevi uccidere Te la vedi? Sì che la vedo Hai la freccia conficcata nella guancia Ma non è divertente Cioè se morivo Pazienza Ma che pazienza Che ho le armi bellissime Guarda L'ultimo Rosso Ok carino Carino Mi fa troppo ridere la freccia nella tua guancia Scusami È epica Non ci provare Dove sono finita? È troppo bella Dove sono finita? Se stavi rimbalzando ovunque Ho rimbalzato da una parte all'altra È assurdo Bellissimo È la cosa più bella del mondo Dai Torna qua che abbiamo delle cose bellissime da comprare Apri la porta Apri la porta Vieni dai Ti sparo guarda Sono da pronta Allora Se ci provi Ti do un'altra martellata Vuoi una freccia nell'altra guancia? No grazie Allora Ci sono le scale Andiamo al piano Che è successo? Hai sbagliato? Non ho preso i soldi Scusami Ah ok Non capivo Mi sono confuso Ok Epic Un altro Allora Secondo piano Centomila Mamma mia Fai molti soldi Ma iniziano a costare anche tanto Vai Eccolo Eccolo Vieni 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 Cosa ci sarà mai? Ma allora è bello comunque Stavamo dicendo che il Tycoon era un po' superfluo Ma mi sta iniziando anche a piacere il Tycoon C'è abbastanza roba C'è un sacco di cose carine Ho una freccia in un occhio Guardami Ti sei autocolpita? No ma l'ha tirata qualcuno Guarda che peli nelle luci Sì Guardami la freccia in faccia No Però è mirato Bisogna dirlo Aspetta Dov'è? No No Stai calma Allora Signor Maialino Che se in questo momento non si vede Si è offeso tantissimo Si è offeso Dov'è? È nascosto Cioè mi stai facendo perdere l'arco? Davvero mi stai facendo perdere l'arco e tutto quanto? Guarda sto per buttarti le cuffie in terra Ma che cosa c'entrano le cuffie? Yes torna e ti ammazzo Yes torna e ti ammazzo E io rimango chiuso dentro No io torna e ti ammazzo No dai ti prego No 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 aprimi No Aprimi Mi ha fatto arrabbiare aprimi e muovi Non ti apro perché dovrei No io ti devo ammazzare No non provare ad arrampicarti Aiuto ragazzi No guarda attento torno Prima o poi troverò Crokey Ma di nuovo Crokey o era Epic prima? No prima era Epic So solo che non le trovo io Guarda lo spadone di Epic che bello Lo tiene addirittura due mani da quanto è gigantesco Ma sono vestiti fighissimi Perché noi non ce li abbiamo quei vestiti? Perché ha trovato una motosega Crokey Bellissimo Oh mio Dio Solo tu trovi schifezze? Eh sì Sì abbracciami No 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 Abbracciami No smettila Smettila Mi obblighi a fare ciò che io non vorrei fare È una bruttissima persona Mi hai obbligato tu Hai comprato un altro vestito Lo so Per colpa tua ho sprecato soldi Prima di tutto abbiamo questo Sono sopra la prossima cosa da comprare Ok Ok l'ho comprata Sì vabbè Io dicevo Ok si fanno in fretta i soldi Ma guarda adesso Questo costa centomila E guarda quanto è basso E quello il ropper costa centocinquantamila Mamma mia Costa tantissimo Vabbè dai Almeno già che devi aspettare le ceste Almeno aspetti anche i soldi Eh infatti E siamo diciotto minuti su trenta Ci tengo a precisare anche questo Non manca troppo Abbiamo centocinquantamila Quindi vieni che ci possiamo prendere qualcos'altro Io direi di alzare i muri Perché sinceramente vedo dei consolini abbastanza cattivi Sì 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 assolutamente Non vorrei rischiare Ok Ok dai Abbastanza alti Ci sarà un altro piano Finirà così Che dici? Non lo so perché di fatto il roof non è comparso Non è comparso Sì sì stavo guardando proprio quello Quindi potrebbe esserci l'editura al terzo piano Bello nel caso Non ho idea vedremo vedremo Credo che manchi anche poco all'hacky block vero? Spero di sì dai Cioè non mi capitano mai Ecco guarda l'abbiamo chiamata L'abbiamo chiamata Epico vai Assurda assurda Che cos'è? Cos'è? No ho sbagliato tasto Ah è fatti non capivo Penso che sia l'arco che anche croquet Ma trovi solo archi tu Sì 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 E l'arco vedi con le frecce infocate che dicevo poco fa Perfetto Una schifezza No non mi piace molto Vorrei trovare più qualcosa di particolare Particolare un po' come il tavolo che aveva trovato epico E quello sarebbe epico Il tavolo e il martello sono i due più belli per ora Un po' più particolare insomma Guarda in compenso per cercare di tirarti un posto di morale Guarda che bella questa cosa Lo vedi che è una corona? Adesso pure le corone Esatto No Cos'hai trovato? Così impari a prendermi in giro Guarda come va random Lo vedi? Aspetta E guarda quanto ci mette a ricaricare Guardalo Aspetta Ok Io forse ho capito Che è successo? Non è che è telecomandato? E come lo comandi? Tenendo premuto No Fa schifo e basta Guarda deve morire Ma te l'ho detto Cioè non è una visuale Come fai a comandarlo? Non lo so Non lo so Ho sperato Probabilmente è un raggio che tende ad andare verso l'alto Quindi devi mirare sapendo che fa questa curva Ho cercato di trovare un'utilità allo schifo Ok? No è uno schifo e basta Guarda Comunque visto che hai armi schifosa Posso prendermi la mia vendetta Te ne devi andare Ma la tua è fortissima Ma cioè mi passi vicino Mi sciocci? E lo so È impossibile È impossibile Infatti non mi devi ammazzare Perché è fighissima la mia arma Boh Cioè lei ancora da quando? Cioè non sei ancora morto? Io non sono mai morto No bisogna rimediare No cioè tu devi stare proprio calma Perché ti spacco le ossa Bisogna rimediare Bisogna rimediare Non ti apro più eh Non ti apro più Dai aprimi e muoviti Promettimi che non mi uccidi Ok Promesso? Guardami Promesso Stavo facendo l'occhiolino Che poi non lo so fare Mi è uscita una cosa terribile Ok Però va bene Ascoltami Abbiamo Quanto abbiamo? Un milione Dai vieni a prendere questo Così vediamo cos'è questo Aureus Aureus dropper E guarda come è scritto Ah ok I caschetti Allora sì Aspetta sono comparse un sacco di cose C'è un upgrader E poi un emerald giver Bello Eyes of emerald Ho speso tutti questi soldi per nulla Aspetta voglio fare una cosa Aspettami No 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 Mi è arrivato Oh cavolo ho resettato il pg Perché volevo mettermi la faccia Oh l'ho presa anch'io Corri dentro casa Aspetta 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 Che se ti ammazzano e lo perdi Rido troppo No l'ho persa L'ho persa Stai scherzando No Stai scherzando Stai scherzando Non me l'ho data guarda No Cioè la giornata della figa oggi ragazzi Vieni dentro Vieni dentro No cioè vabbè Io me ne vado Addio Cioè Addio Cosa ti è saltato in mente Quando ti ho detto che mancavano solo due minuti Allora innanzitutto la scritta mi ha persa Quando il personaggio era già responato Quindi vorrei capire il bug Prima di tutto Sono delusissima Basta Vado Me ne vado via Guardala esteticamente È carinissima Vai Che hai trovato? Una spada arcobaleno? Ma fa schifo Cioè l'unica cosa che fa è luccicare Cioè ok ammazza va bene ma è una spada Ho aspettato mezz'ora per una spada? Siamo seri? Sì Eh vabbè non sei stato fortunato Che ti devo dire Non sei stato fortunato Non dovrebbe essere fortuna Quando è il super Della sfiga Comunque volevo mettermi sta faccia Adesso me la vado a mettere Ecco qua Guarda che faccia cattiva O adesso Guardami Ora è pericolosa ragazzi Vieni a guardarmi Ti devo zoomare proprio Sì esatto La devono vedere tutti La mia faccia arrabbiata Perché non sono riuscita a prendere La super lucky block Guarda non ci provare Io me ne vado Io adesso faccio il live Ma che è successo? Che ero in piedi senza capelli Ma che è successo? Prima ti ho dato una martellata Distruggendoti Poi ti ho sparato col cannone Sono delusissima Penso che me ne rimarrò in questa roccia A piangere per tutto il tempo Fammi vedere Bellina Sì mi piace molto Ciao Sono lì sopra a piangere Ma è aperto Molto particolare Molto strano Ok Cos'è il robot giver? Non lo so È strana questa zona È strana questa stanza Sì che è strana Aspetta che spariamo crocchi da qua Vediamo Allora lui si È una persona terribile Non è possibile Mi hai fatto perdere la spada gigante Era l'unica arma che mi piaceva Ah ecco No me l'hai fatta perdere Io non ce la faccio più a giocare così Non ce la faccio più Allora Cioè Io ho mirato dritto Zitto 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 Ho mirato dritto Cioè io ero di lato Come accidenti hai fatto a prendermi Ero da tutt'altra parte Ho mirato dritto Piuttosto c'è Basta Non riesco più neanche a dire le parole Te lo giuro Basta zitto Non sono stato io L'hai fatta apposta No Non l'avrei mai fatto Signor ma io l'ammetto Che con la coda dell'occhio Ti ha visto che l'hai fatta apposta Sta mentendo Credo solo a lui Sta mentendo signor Marialino È un bugiardo Tu sei un bugiardo Allora Compriamo questa Mi hai fatto perdere pure la cesta Adesso me le compri con i robux Guarda È certo Cos'è questa cosa? Questo? Cosa stiamo prendendo? Non capi Cos'è questa cosa? Eppure Cosa sono? Uh guardami Mi sono messo il cappello Credo che siano diversi tipi di fisico Che poi Sono diventato un robot Guardami Bellissima Sono diventato un robot Non so cosa sia Cos'è questa cosa? Oh mio dio Oh mio dio il cane Il cane Togliti Wow Vieni qua Ma l'hai visto che fa O-M-G What to do Parla esattamente come i doge su internet Esatto Ma sei matto Ciao cannellino Fai attaccato Tu ti dice? Vieni da papà Ma perché io non ce l'ho? Vieni da papà Dove è finito il mio? Dove è finito? Vieni Eccolo Vieni qua Eccolo il mio Li vuoi i crocantini? Li vuoi i crocantini? Che crocantini vuoi? Ma è troppo carino lui No Li hai fatto Mettere il casco Ma povero Ascolta Vieni a metterti il parrucchino Vieni Vieni con me Che parrucchino? No Al cane Voglio far mettere il parrucchino Al cane Vieni qua Se vuoi li do una matellata Devi mettere il parrucchino Vai Se l'hai fatta? No Si è buggato lì sopra Guardami Sono un vichingo Oh mio dio Che belle Non mi uccidere il cane? Vieni qua Devi premere Ok Ok vai Fallo tenere fermo Allora se sbagliti Dove è finito? Richiamalo Premi sinistro Prima o poi torna Oh mio dio È fantastica Sono un fotomodello È fantastica Con la gomma da masticare Sta benissimo anche a te Con la gomma da masticare È fantastica Si si abbina i miei capelli È fantastica Ce la compriamo entrambi Così abbiamo l'unica cosa uguale È la faccia? No Non lo so Ci penso Ci penso Sicuramente non ho mai capito Se poi queste facce Le trovi anche Nel catalogo Guarda che bellina è anche questa Vado a provare? È troppo carina Guarda che carina Però mi piaceva più questa Eh sì Quella è la più bella Allora Torniamo di sopra Credo che abbiamo Ufficialmente finito la mappa Sì Sì Non c'è altro da prendere Abbiamo Finito Questo non lo so Se è bloccato così Boh Non ho idea Credo che abbia Tipo 5 minuti Anche quello Comunque è da una vita Che non prendo una cesta Io ti vorrei far notare Questa cosa È davvero da una vita Ok abbiamo aspettato Qualche minuto Per fare l'ultimo Spacchettamento Di Lucky Block Prima di finire il video Ne abbiamo Altri tre Inizio Vai Allora Uno Cos'hai trovato? Wow Bella schifezza Vai tocca a te Qual è? Questa Ok Vediamo Aspetta Che cos'è? Prova a sparare sul muro Non vedo nulla Tu vedi qualcosa? Prova a spararmi Un solo colpo Aia Colpi invisibili Non lo so Non lo so Bruttissima Ultima Oh mio dio Un mitra Lo vedi? Che farà colpettini minuscoli Ah ma è come il mio Anche il mio Vedi che fa colpi minuscoli Però singoli Sicuramente così Che brutto Bellissimo il mitra Dai almeno il mitra è bello Almeno il mitra È bellissimo Insomma non proprio bellissimo Comunque ci fermiamo così Fateci sapere ragazzi Nei commenti Se volete vedere Un altro video Dove magari Aspettiamo tipo due ore Per aprire tipo Quattro superblock A testa Sarebbe una cosa epica E se volete vedere Appunto un sacco Di altri lucky block Aperti Perché si potrebbe fare Con un video Dove teniamo aperto Per qualche ora il gioco E a quel punto Iniziamo ad aprire tutto Io l'ho trovato divertentissimo Molto originale Come i Taekun Sì Diverso dal solito Assolutamente sono d'accordo Sì 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 E ci fermiamo così ragazzi Beh ragazzi Se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 ciao